Questa è una richiesta interessante, io ricordo, ve l'ho già detto in un'altra occasione, che c'era stato un tentativo, c'era allora il Presidente Cuffaro, c'era Cuffaro, parlo così perché gli amici di Egrigento lo mandano in onda 25 volte al giorno, c'era Cuffaro e si era tentato di creare un'autorità portuale, un commissario, poi gli avversari non lo permissano, ma in verità credo che sarebbe stata un'idea accettabile, lo stesso Sindaco di Pozzallo che ora si lamenta del fatto che non gli è andato manco conto, è chiaro che fu contrarissimo, non lo prevede la legge, lo statuto, perché allora il commissario doveva essere Giovanni Cosentini che naturalmente era di parte avversa del Sindaco che allora era ancora sempre Roberto a Madura. Detto questo io spero che si trovano delle soluzioni, perché il porto è molto di più, può fare molto di più di quello che fa e sarebbe interessantissimo, e lo dico al Sindaco, se si potesse tentare la intermodalità, lo abbiamo detto, a un chilometro, forse neanche di distanza dal porto c'è la ferrovia, un chilometro, non alla stazione, un chilometro, dritto a dritto, a quel punto ci sarebbe la ferrovia che arriva dentro il porto e pensate per esempio che una delle merci principali è il marmo che potrebbe essere trasportato sul treno, i fitofarmaci che potrebbero essere trasportati col treno, il cemento, tutto questo invece di fare camminare i camion. Che dici? A proposito di Pozzallo c'è stata oggi questa operazione dei carabinieri di Modica che hanno fermato, questa operazione si chiama Family, c'è la famiglia, perché era tutta una famiglia che spacciava droga, quindi li hanno fermati sei, fra arrestati, insomma un bel colpo dei carabinieri di Modica con questa operazione Family. Ora, prima di andare a parlare con l'amico Cesare, voglio ricordarvi che domani c'è un appuntamento, questo per gli addetti ai lavori soprattutto, cos'è l'Unimiri, l'Unimiri, l'Unimiri è l'Unione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Voi sapete che ogni anno c'è questa storia di insignire dei personaggi del posto che sono conosciuti e che vengono nominati i cavalieri e poi ci sono tutte queste cariche. Allora, qua domani a Ragusa Mediterraneo ci sarà questo incontro proprio per dare vita all'associazione che riunisce tutti coloro che hanno preso questi riconoscimenti, sono stati insigniti in qualche modo. Ma non è tanto questo, è lo spirito, perché in pratica il motto è acta non verba, fatti non parole. La cosa importante è che ogni socio, a testimonianza dei meriti che gli sono stati riconosciuti, deve promuovere sul territorio mirate iniziative, volte al raggiungimento di nobili obiettivi come la salvaguardia dei comportamenti e di politicamente corretti, la tutela dei sentimenti, di fedeltà alle istituzioni, il rispetto della legalità, cose che purtroppo ormai sono state completamente dimenticate. E forse, dice ora sai cosa hanno dettoci, forse gli facciamo rifare il militare e i picciuotti. bello fosse, io l'ho fatto, un po' arzigogolato come l'ho fatto io, però l'ho fatto, l'ho fatto 12 mesi di militare e quindi serve, serve in qualche modo. Allora io glielo farei rifare, perché i giovani di oggi mi sembra che hanno troppo il piatto amministrato, guardano troppa televisione, troppi telefonini e forse hanno bisogno di fare un poco di vita militare. E ora sentiamo il nostro ospite del venerdì.